Ieri c'è la mia punta, ora come a fare? Ah beh, considera che c'è un'erogliante, quindi vai tranquilla proprio. Vanno bene, vanno bene. Raga, il primo! Passiamo. Passate. Passiamo? Prego ragazzi! La mensa! Mi va a prendere le mani? Sì? Tento che... Bello! È bello! È bello, è bella colorata. Poi il cuoco, scusami. Sì. Sì, sì. Ragazzi, il primo piatto deve essere per la coordinatrice. No, no... Sì, lei... Cami è ancora la mochina ok tieni male no no ma fai 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 il giro vediamo com'è il saggelo aspetta dammi il bicchiere se è meglio o peggio se verete dai come scelto buona